Eccolo stiva domani ragazzi, riecco a tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale un altro video insieme, un buongiorno a tutti voi in questo 5 ottobre di sabato e ovviamente benvenuti in questo primo contenuto di giornata in cui andremo a fare un recap di tutto quello che sta succedendo nel panorama Juventus, ovviamente in questo momento tenendo conto del fatto che mancano pochissimi giorni ormai alla partita col Cagliari interna in cui dovremmo assolutamente cercare di fare i tre punti per rimanere in scia di un Napoli che è riuscito a domare il Como 3-1, non facilmente perché comunque il Como era riuscito a pareggiare il primo gol che loro avevano segnato nel primo tempo, poi si è dilagato nel secondo tempo con il 3-1 e tra l'altro dopo quella partita è stata anche Verona-Venezia con il Verona che ha ribaltato il punteggio battendo 2-1 il Venezia di Di Francesco, Zanetti contentissimo ovviamente anche grazie all'autogo di Joronen, quindi dovremmo come ho detto farci trovare pronti e cercare di tenere la scia del Napoli e ovviamente tenendo un po' lontano anche l'Inter che sicuramente in questo momento avrà anche un calendario abbastanza agevole. Prima di partire ovviamente, bel pollicione alto e poderoso se video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre e costantemente aggiornati sulla postatura quotidiana di ogni contenuto. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte, un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, ieri sera come avete visto ho fatto anche il terzo video serale proprio per parlare della situazione di Paul Pogba. La Juventus non è stata ancora informata ufficialmente da parte del tasto di Lausanna riguardo la decisione definitiva appunto del tribunale e ovviamente Pogba che aveva ricevuto inizialmente quattro anni di squalifica proprio per l'assunzione del farmaco TEA alla fine ha ricevuto una riduzione della pena e come vi avevo detto anche mesi fa i legali del francese erano sempre stati convinti della sua innocenza, dell'ingenuità appunto dell'assunzione di questo farmaco e come abbiamo detto è tutto stato ridotto a 18 mesi che ovviamente verranno calcolati dal momento in cui è stato beccato in flagranza di reato. Quindi da agosto 2022 calcolando 18 mesi si arriva circa a gennaio che è la data in cui Pogba potrà riprendere ad allenarsi, quindi la Juventus, e eventualmente se la Juventus lo reintegrerà in rosa potrà cominciare a fare partite ufficiali da marzo. Quindi il bivio è molto chiaro. Allora o ci sarà il reintegro in rosa di conseguenza alla decisione della proprietà di Tiago Motta giuntoli unanime oppure ci sarà la risoluzione del contratto che ricordiamolo è in essere fino al 2026 perché Pogba aveva firmato nel 2022 chiesto a gran voce da Max Allegri ovviamente con la compartecipazione di Nedved che aveva già avuto degli accordi con Raiola molto prima e quindi insomma c'è molto tempo per manovrare da questo punto di vista. Se dovesse essersi la risoluzione la Juventus andrà a risparmiare circa 40 milioni lordi quindi per le nostre cassa andrebbe da dio. Se decidessimo di reintegrarlo in rosa potrebbe essere un giocatore in più da impiegare, un top player. Ricordiamolo se dovesse tornare tirato a luce da livello fisico e anche mentalmente pronto per stare a noi di Tiago Motta competitiva ad alti ritmi e ovviamente però bisognerà vedere lo stipendio perché adesso percepisce il minimo salariale per legge e come ho detto penso che non gli si possa dare più di 4 milioni che è leggermente meno di quello che prende Cup Miners perché sarebbe assurdo dargli di più. Certamente dargli come McKennie 2,5 forse sarebbe troppo poco quindi vedremo cosa verrà deciso. Per Pogba si aprono diverse piste tra l'altro ha avuto anche il sostegno da parte di Chiam Bappé che ha parlato francese tramite i social e MLS quindi in America oppure non abbia salito sono piste calde che riprenderebbero a tornare calde da prima perché già Pogba era in contatto con l'estero proprio nella situazione in cui stava per essere squalificato e ovviamente questi contatti ripartiranno eventualmente dall'estate quindi non da gennaio perché ovviamente lui avrà ricominciato a malapena all'allenarsi quindi è improponibile farlo andare in un'altra società perché ricordiamoci che nelle condizioni in cui sarà a gennaio probabilmente farà fatica a superare dei test fisici quindi bisogna assolutamente aspettare ancora per capire esattamente quale sarà la decisione da parte di Juventus. Chiudo questo capitolo ma era doveroso appunto approfondirlo perché era una notizia fondamentale sia di ieri sera ma anche di questa mattina e parliamo di San Beuchema altro giocatore molto interessante che è stato visionato da parte di Giuntoli sapendo che comunque Mileta nel Bologna ed è stato allenato da Tiago Motta suo pallino tra l'altro e visto che comunque Bremer sta fuori dai campi per almeno un anno dobbiamo trovare delle soluzioni come ho detto ci sono diverse opzioni anche quelle di provare a richiamare Rugani o Dialo provare a dare fiducia a Felipe Pedro dalla next gen provare a richiamare Mugaremovic dal Sassuolo abbiamo visto diverse opzioni da scartare in questo momento il discorso legato agli svincolati ed ecco perché stanno spuntando altri nomi quindi oltre a Della Croix e a Jarel Atou dell'Ajax è spuntato questo ragazzo molto interessante che ricordiamolo sta facendo molto bene al Bologna chiaramente non parliamo di un super top player ma un giocatore funzionale a gioco di motta i due si conoscono molto bene e tra l'altro il valore di mercato non è neanche altissimo tenendo conto che ha un contratto di scadenza al 2027 quindi altri tre anni c'è molto margine di manovra sia per il Bologna sia per la Juventus ed è stata acquistata una cifra veramente irrisoria di 9 milioni più bonus e ovviamente oltre a questo c'è da tenere conto di una percentuale sulla rivendita eventuale del Bologna di 20 per cento quindi ovviamente Bologna potrà rincarare eventualmente quel prezzo lì dell'acquisto e in ogni caso potrebbe essere comunque un ottimo colpo visto che comunque abbiamo pagato per esempio 12 milioni cabal dal Verona possiamo sicuramente investire qualcosa eventualmente per un giocatore di questa caratura vedremo come ho detto se questi rumors queste indiscrezioni si tramuteranno in qualcosa di più a livello di trattativa per il momento è una notizia che è stata girata anche da da longo in calciomercato.com quindi è chiaro che qualcosina si sta muovendo qualcosa c'è anche perché in questo momento il telefono di Giuntoli sicuramente è bollente perché deve far fronte a una situazione di emergenza assoluta per la difesa per cui bisogna assolutamente intervenire a gennaio come ho già spiegato nei video precedenti io mi aspetto che John Elkan in qualche modo dia carta bianca dal punto di vista economico a Giuntoli perché in questa situazione non si può chiudere gli occhi è vero che il bilancio importante ma come ho detto non possiamo rimanere corti in un reparto di difensivo cruciale per i successi della Juventus perché ricordiamolo Tiago Motta sta costruendo la stagione straordinaria che ha fatto finora sia in Italia Serie A che in Champions League proprio su una difesa solidissima che per il momento ha preso tre gol ovviamente su otto partite però i due li consideriamo contro l'Ipsia che comunque in una partita sola e tra l'altro bisogna considerare anche il fatto che eravamo in dieci dal 59esimo fino al 98esimo 99esimo quindi è chiaro che è una partita comunque macchiata da alcuni episodi e da un arbitraggio e da una situazione VAR veramente scandalosi ecco quindi ho fatto già anche questa panoramica sulla difesa ovviamente via via che andremo avanti parlerò anche di altri potenziali situazioni che si creeranno ma come ho detto in questo momento fino a gennaio Motta sarà chiamato a fare di benissistà virtù è un mezzo miracolo nel ruotare tutti i giocatori che ha a disposizione insegnando anche alcuni di quelli che non sono propriamente dei centrali a farlo perché sulla carta Gatti, Calulu ed eventualmente Danilo sono gli unici che di ruolo potrebbero fare il centrale tra l'altro Danilo negli ultimi tempi era soprattutto un terzino quindi vediamo un attimo cosa verrà deciso anche perché per esempio Caval è adattato a centrale ma è un terzino sinistro perché il suo ruolo principale anche la Verona è stato quello. Chiudiamo parlando anche di un'altra informazione interessante che mi ha riguardato molto ed è quella che riguarda Nico González che sappiamo benissimo essersi infortunato non in maniera gravissima ma in una forma lieve al dodicesimo minuto del primo tempo in Lipsia Juventus ancora con il risultato di 0-0 e ovviamente è stato sostituito degnamente da Conseil Sao che poi è stato decisivo alla 32esimo con un gol straordinario che ha cambiato completamente le sorti del nostro giro di Champions. Quindi come ho detto si tratta per il momento dopo le analisi strumentali da J Medical di una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra quindi si presume che il suo recupero verrà effettuato soltanto dopo la sosta, quindi dopo queste tre partite di cui una è Juventus Cagliari e dovrebbe tornare a disposizione contro l'Inter, gara fondamentale, cruciale, crocevia della stagione in cui dovremo dimostrare di essere superiori anche alla squadra di Milano che comunque insieme a noi e a Napoli in questo momento in cui parliamo siamo i favoriti per lo scudetto. Mi sento di tenere fuori per il momento ancora il Milan perché deve dare ancora dei segnali importanti così come Lazio, Atalanta e Roma che in questo momento non hanno la caratura per poter in qualche modo impensierirci anche se sappiamo che l'Atalanta ha sempre delle partenze molto lente e poi piano piano entra in ritmo il regime di campionato. Quindi diciamo che ci sarà sicuramente molto più spazio per Francisco Cossaisao, il nostro gioiello classe 2002 proveniente da Porto che come ho detto è stato protagonista assoluto non solo contro il Genoa facendo un gol in infolente livello di risultato ma comunque lo ha sbloccato e gli ha permesso di fare la gioia alla festa con tutta la squadra che lo ha galvanizzato molto dopo un mese difficile da infortunato e poi oltre a questo gol come ho detto sigillo decisivo nel 2-3 con Lipsia in 10 uomini contro 11 e che ci ha regalato una vittoria bellissima e ci ha fatto capire che anche a difese schierate questo ragazzo può fare la differenza e in qualche modo mette in difficoltà qualsiasi difesa, qualsiasi avversario, qualsiasi terzino che fronteggi fisico, minuto, veloce, lento, fisica, qualsiasi tipologia di difensore. Quindi è per noi un valore aggiunto e oltre a questi due gol che ha fatto un altro assist per Vlaovic al bacio e quindi diciamo che è un giocatore come ho detto fondamentale. In questo momento, l'ho spiegato anche nei video precedenti, lui e Calulu sono in qualche modo i nostri talismani. Uno per l'attacco e l'altro per l'attacco e l'altro per la difesa e poi ovviamente in attacco Dujan Vlaovic è in un stato di grazia e a centrocampo ci metto anche Fagioli. Ovviamente senza nulla togliere agli altri ma in questo momento è quello che forse sta facendo meglio. Un giocatore invece che è un po' appannato ma secondo me è soltanto un periodo di transizione perché Tio Moti gli ha chiesto anche altri compiti durante le partite è Kenan Hildiz, il nostro classe 2005, Turco, prospetto straordinario che comunque sta ricevendo grandissime pressioni perché su di lui ci sono tante aspettative, in questo momento non sta incidendo diciamo in maniera preponderante ma come ho detto è solo un periodo perché deve in qualche modo anche compartecipare a tante azioni difensive, non solo fare assist e gol ma in qualche modo in partite molto complicate fare diciamo anche un po' di lavoro sporco per Tiago Mota, forse per quello che arriva con meno lucidità là davanti. Ditemi cosa ne pensate, ditemi la vostra qua nei commenti, forse io fino alla fine, a prestissimo!